Attenzione, per le immagini mostrate e le storie raccontate in questo video si consiglia la visione ad un solo pubblico di adulti. Una squadra speciale dell'anticrimine accusata dell'assassinio di una star della musica. L'alto funzionario di polizia, capo dei capi della cupola criminale. Omicidi e rapine di una gang formata da poliziotti. Ciao, sei su True Crime 6 e questi sono sei casi di crimini compiuti da forze di polizia. Il BOPI, acronimo di Battaglione per le Operazioni Speciali di Polizia, è un gruppo di intervento delle forze speciali brasiliane impiegato da fine anni 70 per agire nelle aree ad alto tasso di criminalità come le favelas di Rio de Janeiro, da sempre nelle mani di gruppi armati di trafficanti di droga che si mescolano alla dilagante povertà e al degrado delle baraccopoli. Il BOPI, che porta nel suo stemma il famoso teschio trafitto da un pugnale, è da sempre soprannominato dalla stampa Squadrone della Morte. Questo perché da più di vent'anni ormai il gruppo, specializzato in azioni di guerriglia urbana, è anche accusato di un numero crescente di omicidi sospetti, falsificazione di prove, appropriazione di denaro sequestrato e mai registrato, corruzione, diversi casi di stupri ed esecuzioni sommarie di giovani accusati di far parte di gang, ma spesso risultati estranei alle accuse. I casi da esaminare sarebbero centinaia, ma anche Amnesty International ha in varie occasioni segnalato la violenza dilagante della polizia brasiliana, accusandola dell'uccisione di civili. Ispirato alla storia del BOPI, è stato prodotto nel 2007 il film campione di incassi Tropa de Elite. Numero 5. I crimini sessuali di Bastard Dave. Dave Carrick, agente di polizia metropolitana del Regno Unito dal 2001 al 2020, è stato accusato e condannato per svariati episodi di violenza sessuale. Nasce nel 1975 e in età adulta, dopo un breve periodo nell'esercito, entra in polizia nel 2001. La polizia riceve nel corso degli anni diverse segnalazioni sul suo comportamento violento e non sono di opinione diversa i suoi colleghi, che a causa del suo temperamento aggressivo gli danno il soprannome di Bastard Dave. Carrick viene anche indagato per episodi di violenza domestica nel 2002, ma nonostante le segnalazioni e le ombre sul suo passato, riesce a mantenere il suo posto in polizia. A partire dal 2003, a quanto dicono le indagini, usando social network come Badoo e Tinder, si mette in contatto con svariate donne e, usando la sua posizione di poliziotto per guadagnare la loro fiducia, le rapisce e abusa delle vittime in svariati modi. Carrick picchia le donne rapite, le reclude in spazi angusti, urina sulle vittime, le affama, le tortura psicologicamente e, ovviamente, compie violenze sessuali. Viene arrestato nel 2021 e, dal momento del suo fermo, piovono svariate denunce da parte di altre donne abusate. Sotto accusa per 49 episodi di violenza, tra i quali 24 di stupro, nel 2023 viene condannato a scontare 36 ergastoli. Numero 4. Il caso della caserma Levante Durante l'estate del 2020, lo scandalo della caserma Levante di Piacenza, che era diventata, a quanto pare, centro nevralgico di violenze, torture e spaccio di droga, investe l'Italia. Tra i racconti dei crimini commessi dai carabinieri coinvolti, quelli di autocertificazioni fornite a spacciatori collusi per recarsi in Lombardia e acquistare droga, di gestire lo spaccio nella zona durante il lockdown, di torture su pusher avvenute in caserma per costringere gli interrogati ad ammettere falsi reati o farsi consegnare la droga da rivendere, oltre a segnalazione di festini con escort avvenute nella caserma o alla scoperta di 24 conti corrente, una villa con piscina e vari beni di valore frutto degli illeciti per alcuni degli indagati. La lunghissima lista dei reati contestati ai militari della caserma Levante comprendono traffico e spaccio di droga, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, peculato, abuso d'ufficio, perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie ed altre ancora. Attualmente al secondo grado di giudizio, l'appuntato Montella e i suoi colleghi Cappellano e Falanga sono stati condannati rispettivamente a 10 e 6 anni di reclusione, un anno con sospensione condizionale della pena invece per gli altri due. Numero 3. La corruzione nella polizia cinese. Wenchen è stato vice capo della polizia e poi direttore dell'ufficio giudiziario municipale di Chongqing, nel centro-sud della Cina. Approfittando della sua posizione e della sua immagine di eroe dell'anticrimine, ottenuta a seguito della cattura di Chan Chun, un noto criminale a capo di una gang, Wen stabilisce, grazie ad una fitta rete di corruzione nella polizia che fa fare con la malavita, un intricato sodalizio criminale con 5 gang dell'aria coprendo nel corso degli anni le loro azioni criminali, in cambio di enormi somme di denaro. A tenere i contatti diretti con le gang, o a quanto si racconta in cima alla cupola sotto la quale si riunisce tutta la malavita della regione, ci sono la moglie di Chan e in particolare sua cognata Shekai Pin, detta da tutti la madrina, che oltre a fungere da boss, gestisce casi no e corrompe funzionari governativi. Dalle inchieste che hanno portato all'arresto di Wenchen, di sua moglie e di sua cognata, le persone arrestate coinvolte nello scandalo, tra le quali criminali comuni, civili, agenti di polizia e alti funzionari del governo, sarebbero più di 3.000. Accusato di favoreggiamento, corruzione, di aver intascato tangenti per 12 milioni di yen, quasi 2 milioni di euro, e dello stupro di una studentessa universitaria, Wenchen viene condannato e messo a morte dalla giustizia cinese il 7 luglio del 2010. Numero 2. La banda della Uno Bianca. A partire dal 1987, nelle zone comprese tra Marche ed Emilia Romagna, una banda di feroci criminali semina il terrore rapinando caselli autostradali, uffici postali e banche, restando impunita e rendendosi quasi invisibile per anni, fino al 1994. Unico raccordo nelle indagini è quello che a commettere i crimini sarebbe un gruppo di rapinatori che viaggia spesso a bordo di una Fiat regata. Per questo, il giornalismo battezza inizialmente i rapinatori come la banda della regata fantasma. Il 3 ottobre del 1987, la banda tenta un'estorsione al proprietario di un autosalone, ma ne nasce un conflitto a fuoco con la polizia nella quale perde la vita il sovrintendente Antonio Mosca, ma è solo l'inizio della enorme catena di morti che si succederanno negli anni, fino a un totale di 34 decessi e centinaia di feriti. A perdere la vita nel corso delle irruzioni e delle rapine di quella che da lì a poco verrà rinominata a banda della Uno Bianca, sono, tra i tanti, le guardie giurate Giancarlo Picello e Carlo Beccari, i carabinieri Cataldo Stasi ed Umberto Errio, un'intera pattuglia di carabinieri a Bologna, altri uomini delle forze dell'ordine e decine di civili malcapitati. E solo nel 1994, quando il magistrato Daniele Paci organizza un pool per fermare la banda, che le indagini dell'ispettore Luciano Baglioni e dell'assistente capo Costanza portano dopo meticolose indagini e pedinamenti all'identificazione dei sei membri della banda, cinque dei quali, come ormai noto, si scoprono essere agenti di polizia, ragione per cui, negli anni, erano sempre riusciti a nascondere le loro tracce o anticipare le mosse dei colleghi. Arrestati e condannati, tre di loro, i fratelli Savi, scontano tutt'oggi l'ergastolo, mentre Gugliotta, Occhipinti e Vallicelli sono da qualche anno liberi per buona condotta o per aver terminato di scontare la loro pena. Se questo argomento ti interessa e vuoi saperne di più sulle cronache, le indagini e i misteri della banda della Uno Bianca, ti consiglio la lettura di Quelli della Uno Bianca di Pietro Baroni. Trovi anche un link in descrizione. Ma proseguiamo. Numero 1. Lo scandalo Rampart. Nei primi anni Ottanta, la polizia di Los Angeles crea le unità CRASH, squadre speciali di agenti designati a contrastare i reati delle gang di strada. Il gruppo CRASH della divisione Rampart di Los Angeles, però, si scoprirà negli anni essere diventato a sua volta una delle gang più temute della città. Gli agenti Nino Darden, Rafael Perez, David Mack e numerosi loro colleghi si rendono responsabili nel corso degli anni di pestaggi, rapine, traffico di droga, di fare affari con le gang, in particolare con i Bloods, dei quali alcuni agenti del CRASH spesso vestono anche i colori e in diversi casi di omicidio. Tra alcuni dei fatti più eclatanti, l'omicidio dell'agente Rampart Kevin Gaines, stretto contatto tra gli altri di Suge Knight, gangster e proprietario della Death Row Records, da parte di Frank Liga, un altro agente che lavora sotto copertura e che lo uccide in circostanze mai del tutto chiarite. Poi, la rapina di 722.000 dollari alla Banca d'America per la quale viene accusato l'agente David Mack o ancora l'accusa da parte di molti che siano stati proprio agenti del CRASH, gli autori materiali dell'omicidio del rapper Notorious B.I.G. Quando lo scandalo esplode, ad essere indagati sono più di 70 agenti della polizia di Los Angeles, per molti dei quali scattano processi e condanni a vario titolo per una serie enorme di reati che vanno dalla rapina a mano armata a tangenti, alla violenza privata e all'omicidio. Allo scandalo Rampart di Los Angeles sono ispirati la serie TV The Shield di Sean Ryan ed il film Training Day. Sei su True Crime 6 e questi erano 6 casi di crimini compiuti da forze di polizia. Se ti è piaciuto questo video, clicca like e condividi. E se sei appassionato di questi argomenti, iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Alla prossima settimana.